Buonasera, sabato 7 agosto, il primo weekend di agosto e non si sa tanto bene come ci dobbiamo comportare, sono appena entrate in vigore le nuove regole, c'è un certo nervosismo dappertutto persino qui in questo studio, ma io sono molto calma perché è con me David Parenzo. Ciao David, che bello passare un weekend ancora con te, ma veramente sono francamente entusiasta, va tutto bene? Benissimo, bello anche questo abito. Continuiamo a parlare dei colori, poi parleremo anche dei colori, delle certificazioni che in Italia e nel mondo fanno impazzire naturalmente per il bene comune, l'universo, capiremo quali sono le nuove regole, quali sono gli incentivi che si danno nel mondo per attivare le nuove regole, insomma come ci si deve comportare in questo primo fine settimana di agosto e poi per tutto il mese di agosto e lo facciamo insieme ai nostri ospiti che stasera, caro David, sono Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia e nostro spirito guida nelle cose del Covid e non solo, Euromedia Research, dottoressa Ghisleri, Fabrizio Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, spirito guida nel mondo della pandemia e anche lì ancora non ci siamo finiti di orientare e Federico Rampini, una grandissima sorpresa e per me insomma un grande piacere avere Federico Rampini, giornalista di Repubblica, scrittore, in questo momento in tournée in Italia ancora per poco perché Federico come ognun sa vive negli Stati Uniti e diciamo va di continente in continente, è imminente il suo prossimo libro, Fermare Pechino per Mondadori, si aprono le prenotazioni, ecco il dragone, adesso Federico ci racconterà di che si tratta e parleremo con lui del mondo. Pochissimi minuti di pubblicità e siamo con voi per capire come fare ad attraversare l'agosto. Buonasera e buon sabato, buonasera a Concita De Gregorio, buonasera Davide. Allora questa sarà una puntata per cercare di analizzare che cosa sta accadendo in Italia nel primo weekend di agosto e nel primo weekend in cui sono entrate in vigore, come sapete, le nuove norme e il Green Pass esteso a musei, piscine e ristoranti al chiuso. Poi ci sono tutte le nuove norme dal primo settembre che riguardano i trasporti, ma adesso andremo nello specifico per capire che cosa sta accadendo con un bellissimo servizio peraltro del nostro Danilo Lupo che ci racconta gli italiani alle prese con il nuovo Green Pass. Buonasera al professor, al virologo Fabrizio Pregliasco, benvenuto, collegato da Milano, da Viareggio. Federico Rampini, grande firma di Repubblica, presto da settembre con il suo ultimo libro Fermare Pechino per Mondadori, quindi ci darà uno sguardo su quanto sta avvenendo anche negli altri paesi del mondo nell'affrontare la pandemia, e la dottoressa Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. E allora Pregliasco, io però, buonasera, partirei subito da lei per capire questo. Alcune contraddizioni che indubbiamente ci sono in questo weekend, ormai lo sappiamo, l'uso del Green Pass è obbligatorio soprattutto nei posti al chiuso, nei ristoranti, alcune contraddizioni perché i lavoratori, ad esempio, dei ristoranti non hanno l'obbligo di avere il Green Pass. Ecco, secondo lei, vista l'ondata della variante Delta, che in tutto il mondo sta mettendo davvero in discussione la campagna di vaccinazione, questi strumenti che da oggi noi ci troviamo ad applicare sono sufficienti ad arginare la variante? Poi vedremo il caso di Israele che chiude, il caso della Cina, One in lockdown, eccetera. Sicuramente questa pandemia va avanti, andrà ancora avanti, un po' con onde come un sasso gettato nello stagno, quindi con onde che via via si ripresenteranno. Siamo in una fase crescente in Italia, siamo un po' più indietro rispetto ai paesi dell'Europa che hanno aperto prima e quindi stanno subendo l'effetto di una situazione nella quale ogni contatto interumano è a rischio, a bassissimo rischio e con probabilità però non azzerata. È ovvio che la probabilità è diversa se si è vaccinati, se si è in un contesto protetto, se si utilizza quel nuovo galateo che sappiamo come fare e spesso non usiamo. Però davvero non abbiamo un manuale di gestione da poter dare ai decisori politici per poter calibrare le azioni, anche se per esempio si è visto a posteriori come le definizioni in zone sono servite perché si è visto proprio una efficacia in termini percentuali, non assoluti e quindi mi aspetto che anche il Green Pass aiuti proprio perché aumenta la quota di vaccinati e quindi riduce la probabilità di infezione, anche se non lo azzera perché purtroppo la vaccinazione non è uno scudo al 100%, quello che è l'effetto che noi vogliamo, cioè mantenere una normalità o quasi normalità ma tenendo conto di questo aspetto che dobbiamo considerare in ogni momento, ogni contatto interumano rappresenta un potenziale rischio. Però a me david, proprio oggi è successo di andare a mangiare qualcosa in un ristorante cinese, tu dirai proprio cinese doveva essere il ristorante, è come una specie di testa a coda, un test sul covid, sono andata al cinese e ho esibito per entrare dentro il Green Pass naturalmente, ma non mi hanno chiesto il documento di identità e quindi mentre entravo ho pensato, potrebbe essere questa foto sul mio telefono una cosa di chiunque, c'è un codice, un QR code di qualsiasi cosa, allora voglio andare da Federico Rampini e intanto chiedegli se lui mangia con regolarità ai ristoranti cinesi o se invece è di quelli che credono una periodo del complotto e quindi boicottano i cinesi, perché ci sono anche questi, scusate adesso si scateneranno i cancellettisti dell'internet per dire attenzione a quello che dite, ma è vero, è la verità, è vero o no, no va bene, è una partita diciamo che non posso combattere, alzo le mani prima, mi arrendo prima di combattere, ma Federico Rampini è vero che c'è stato a un certo punto, visto che poi appunto tu di Cina ne sei tantissimo occupato e continui ad occuparti, c'è stata una forma di boicottaggio anche di persone che non andavano più al cinese. Certo, è verissimo, ora io non ci vado più per una ragione molto più banale, cioè che mi godo le mie vacanze italiane da buon italiano espatriato, ho una tale fame arretrata di cucina italiana che mi guardo bene dall'andare in un cinese, a New York ci vado regolarmente, è vero però che soprattutto nella prima fase della pandemia ci fu una specie di boicottaggio implicito di Chinatown, Chinatown a New York è un quartiere molto grosso, ci sono fior di ristoranti e non solo quelli, insomma ci abita una comunità cinese che da sola è grande come una città e gli americani avevano paura, quindi ci fu un riflesso totalmente irrazionale, chiamiamolo pure da teoria del complotto, poi sappiamo che non ci si ammalava mangiando cinese, comunque c'è stato quel riflesso. Quello che voglio aggiungerti rispetto alla tua esperienza oggi in un ristorante cinese italiano è che anche in America viviamo in un groviglio di contraddizioni, perché noi abbiamo, soprattutto a New York, poi l'America è federalista e ogni Stato ha delle regole leggermente diverse dallo Stato vicino. Parlo di New York che è una realtà importante, abbiamo l'equivalente del Green Pass, è una app che si chiama Excelsior con un codice QR, io ce l'ho visto che sono stato vaccinato due volte, esiste da molti mesi, adesso siccome siamo anche noi sotto una nuova ondata variante delta, aumento dei contagi, leggero aumento anche dei ricoveri e dei decessi, la città di New York, lo Stato di New York come altri Stati d'America stanno prendendo delle misure abbastanza simili a quelle italiane, però anche se io giro con la mia o col tesserino di carta delle vaccinazioni o col codice QR che tra l'altro è un'invenzione cinese, è difficile che un ristoratore new yorkese sia così zelante da chiedermi oltre al codice QR anche un documento di identità, teniamo conto che in America non è nemmeno obbligatorio avere una carta d'identità e poi soprattutto nessuno vuole creare una coda di clienti e dissuadere i clienti dal venire a mangiare al ristorante mettendosi a fare il doganiere. Addirittura con il double check, cioè doppio check QR code e documento di identità, anche se il sottosegretario alla salute Sileri ha detto che effettivamente è necessario il documento di identità perché altrimenti potrebbe essere di chiunque, scaduto, potrebbe essere un QR code di chissà che cosa, però chi fa il doppio, cioè ci vogliono forse oltre che dei controlli anche delle sanzioni, chiedo volando a Pregliasco e poi passerei alla dottoressa Ghisleri, forse come al solito soltanto bastone e carota, bastone e carota, solo con la sanzione si può risolvere questo problema o si deve lasciar correre un po' l'italiana? Certo, ma allora la decisione è politica e poteva essere l'obbligatorietà, ma in questo momento pur essendo tecnicamente possibile si è deciso di lasciare questa raccomandazione e dare questo Green Pass come elemento facilitante, quindi io credo che appunto ci sia stata una graduazione ragionevole, per esempio si è detto non sui Pullman, nelle metropolitane perché a quel punto ci voleva un'organizzazione di tornelli con lettori di QCode e altri controlli, quindi io dico l'aspetto del Green Pass è un qualcosa di facilitante soprattutto in in quei contesti come possono essere anche le attività scolastiche, io credo molto nella necessità in particolare nel contesto scolastico, quindi elementi che lasciano dei dubbi perché ovviamente rimangono i dipendenti che non sono come dicevate all'inizio. Certo, prima di sentire la dottoressa Ghisleri, guardiamo questo servizio di Danilo Lupo che ci racconta il primo weekend degli italiani alle prese col Green Pass e poi riprendiamo da lei dottoressa Ghisleri. Ce l'avete il Green Pass? Sicuri? Se loro non vi fanno entrare? Vuoi vedere? Vediamo. Ho fatto due vaccini, due dosi di AstraZeneca. Ah, e sei ancora qui a raccontarcelo? È il primo weekend con Green Pass obbligatorio per accedere tra l'altro ai luoghi della cultura. Non senza qualche polemica. Le nuove regole sul Green Pass hanno spaccato anche i luoghi di cultura e la campagna. Mentre la regia di Caserta usa Francesco Primo di Borbone come testimonia al Vacciniamoci Cacce Pass, il direttore della Cappella San Severo ha rassegnato le dimissioni pur di non chiederlo. Siete italiani? Spagnoli. Spagnoli? Green Pass è europeo, diciamo. Vedete, primo weekend di controlli di Green Pass, ovviamente i controlli sono serrati e la coda è impressionante. Ah bene, eravamo solo preoccupati perché i ragazzi abbiamo fatto la prima somministrazione il punto di agosto e quindi il Green Pass ufficiale, quello che si scarica, non ce l'avevamo. Ho portato il cartaceo. E dovrebbe funzionare lo stesso. Dovrebbe funzionare lo stesso. US. US. Che cos'è il certificato equivalente americano? Sì, però dicono che è solo una certificazione di vaccino, non hanno una parola come noi Green Pass per chiamarlo. Mentre per entrare nel Colosseo e nei fori imperiali, monumenti evidentemente all'aperto, il Green Pass è obbligatorio, nella metro Colosseo e in tutte le metro il Green Pass non serve. I passeggeri del trasporto pubblico locale, cioè metro, bus e tram e dei treni regionali, sono esclusi dall'obbligo di esibire il QR code. E il Green Pass non è obbligatorio neanche per soggiornare in albergo. Siete in hotel? Sì, siamo in albergo. In hotel vi hanno chiesto i Green Pass? No. Che è strano, per entrare in un grande museo. Sì, sì, niente, né in aereo nulla. La cosa che ho notato è che non hanno neanche più controllato le acque per salire in aereo, soltanto niente, chiedevano nulla, il documento e basta, non più. Sì, preoccupati per il vaccino, non hanno più controllato altro. È un'emergenza. Che aveva l'acqua. Sì, va bene. Un'emergenza terrorismo. Bomboletta, non c'è più, va bene così. Le contraddizioni forse di un compromesso politico, non so se definirlo così, Ghisleri. Però è interessante questa cosa che per controllare il vaccino non si controlla più la bottiglietta d'acqua e quindi vi ricorderete quando dopo gli ultimi attentati eravamo completamente scannerizzati tutti. Ah, c'è dopo 11 settembre. Sì, no, dopo anche gli ultimi attentati diciamo in Francia e altrove. Ghisleri, ma allora secondo lei quello che abbiamo visto che cos'è? È frutto di un compromesso politico per cui il paradosso nel Colosseo, che è aperto notoriamente, si richiede giustamente al Green Pass e alla fermata della Metro Colosseo no. Eh, questa è un po' una contraddizione evidente. È una contraddizione non solo quella, ce ne sono altre, ma il tema è abituare gli italiani lentamente ad un obbligo per stare bene in comunità e quindi stare insieme in maniera diciamo sana, quindi col vaccino. Anche perché il Green Pass, ne sappiamo bene o meglio così, ci hanno spiegato che potrà durare sei, nove mesi, ha una durata legata al vaccino. Quindi io credo che le scelte siano quelle che vengono chiamate spinte gentili, cioè ti incentivano ad avere un qualcosa che posso usare. Pensate alla contraddizione più grande. Per entrare nel ristorante cinese di qui sopra, il signore che deve misurare la febbre, che deve controllare, può anche non essere vaccinato. Quindi già questo è un controsenso, perché si entra in un luogo pubblico e il gestore del locale o il cameriere non è tenuto ad essere vaccinato. Quindi io credo che forse sia necessario partire da quelle cose molto più piccole. Poi la spinta gentile di piano piano, perché infatti a settembre i trasporti saranno sotto controllo. E poi c'è un'altra situazione. Per scaricare il Green Pass la necessità è quella di scaricare ad esempio un'applicazione. Io l'ho fatta con io, oppure c'è i muni. E vi ricordate le chiacchiere che c'erano per non voler essere tracciati sui muni? Invece con questa adesso siamo tutti tracciati e quindi grazie a Dio c'è anche questa possibilità ulteriore di essere in una comunità più aggregata. È ovvio che può anche essere negativo, perché sappiamo che la globalizzazione porta tutti i problemi che conosciamo. Però credo che a questo punto la politica stia inducendoci ad un percorso e siamo all'inizio di questo percorso. E piano piano, mentre camminiamo, ci stanno indirizzando nel sentiero. Quindi questa è la parte più delicata. Però volevo chiederle, come aggiunta dottoressa Ghisleri, gli italiani come la stanno prendendo? Qual è il gradimento di queste misure? C'è più resistenza o più accettazione? C'è più accettazione. Dove dobbiamo pensare che il 70% della popolazione è favorevole a tutti, non solo il Green Pass, ma anche agli obblighi, ad esempio, di vaccinazione del personale scolastico, del personale sanitario, di coloro che gestiscono gli esercizi pubblici, dei trasporti pubblici e delle forze dell'ordine. Qua arriviamo intorno al 65% dei consensi. Loro la prendono bene perché sono in gran parte vaccinati. Noi sappiamo che quasi il 60% della popolazione ha avuto almeno una dose di vaccino. Quindi è ovvio che vuole e desidera che anche gli altri abbiano questi tempi e gli stessi obblighi. Esiste un quarto della popolazione, il 25%, che invece è reticente, restio, è più che scettico, nel senso che ha paura. E poi c'è il tema della terza dose e dei vaccini al di sotto dei 12 anni. Sono due temi molto critici che saranno affrontati molto più avanti, io credo, dalla politica, proprio per non far saltare il tappo adesso che ci hanno dato il Green Pass. E sono quei temi delicati sui quali la politica discuterà moltissimo. Noi sappiamo già, possiamo già immaginarci, no? Gli slogan e i claim. Perché sono due argomenti che toccano due temi sensibili. E dobbiamo vedere come a settembre funzioneranno poi le chiavi d'accesso sui trasporti, sulla scuola, sugli addetti e sul lavoro. Resta fuori il lavoro. Resta fuori la prima, il più importante degli argomenti. Quello che ci riguarda davvero tutti, cioè i luoghi di lavoro. Facciamo però allora un volo, un viaggio oltre l'oceano con l'aiuto di Federico Rampini. Perché? Perché mi colpisce che, diciamo, Israele è il paese più vaccinato forse al mondo e sta per tornare in lockdown. Ma vediamo quello che avviene negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti il Presidente Biden si sta ponendo il problema di come in qualche modo accelerare la campagna vaccini. Infatti ho visto che addirittura anche in alcune aziende private, alcune aziende private, sono le prime a chiedere il Green Pass e a chiedere il certificato di avvenuta vaccinazione. Cioè vuol dire, Federico, ma raccontacelo tu, che anche il paese della libertà, e non sarebbe la prima volta, si sta ponendo il problema delle restrizioni e in qualche modo di violare uno dei diritti, che è uno forse dei diritti più importanti, che è quello della privacy e dei propri dati personali, del proprio stato di salute. Federico? Sì, sì, è così, è così, ed è proprio vero che è il settore privato, in questo momento in America, quello dove fioriscono le iniziative più aggressive. Perché, faccio un passo indietro e riprendo quello che diceva poco fa la dottoressa Ghisleri, la teoria della spintarella gentile, è una teoria molto antica che in America ha una radice, una tradizione scientifica importante nel pensiero sociologico, si chiama the nudge, cioè quest'idea che non si governa per editti, non si governa in modo autoritario, centralizzato e decisionista, bisogna studiare un insieme di incentivi, di incoraggiamenti, insieme con anche delle regole. E questa è un po' la linea di Biden, che non ha mai mai preso in considerazione l'obbligatorietà del vaccino perché si aprirebbe la guerra civile in America. Viceversa, nel settore privato noi abbiamo una varietà di aziende che usano il bastone e la carota in alternanza, cito un esempio, Vanguard, che è uno dei più grandi gruppi di fondi comuni di investimento, un colosso finanziario, offre addirittura mille dollari a ciascuno dei suoi dipendenti perché si faccia vaccinare entro ottobre e ritorni a lavorare normalmente negli uffici. Mille dollari, non sono pochi. Tra l'altro, per onestà, Vanguard li dà anche a quelli che erano stati vaccinati a marzo, perché altrimenti sarebbe un'ingiustizia. Quindi è retroattivo, anche quelli che furono i primi a vaccinarsi. Poi abbiamo una serie di grandi aziende, da Facebook a Google, che dicono che se non sei vaccinato non torni a lavorare. E quindi si apre anche la minaccia del licenziamento per tanti che dovessero essere dei no-vax militanti. Questo, peraltro, accade in un contesto sociale piuttosto positivo. Oggi l'ultimo dato di aumento degli occupati, le nuove assunzioni nette, quasi un milione di assunti in più. Quindi è un momento molto positivo per l'economia americana, proprio perché era partita così bene la campagna delle vaccinazioni. Siccome adesso ha rallentato vistosamente, Biden è arrivato a toccare quell'area degli incerti, gli indecisi, gli scettici, i paurosi e i no-vax veri e propri, che anche in America, anche da noi, rappresentano grossomodo il 30%. Adesso, per la spinta finale, il contributo del settore privato è piuttosto robusto. Allora, David, poiché è sabato, ti posso chiedere la gentilezza di farmi commentare la mia infografica preferita di tutti i tempi, che io vorrei mettere forse tutte le sere. So qual è. Cioè, gli incentivi, ci parlava Federico Arampini di questa teoria sociologica, che ha una radice antica, gli incentivi, la persuasione, ne parliamo da molte settimane. I nostri ospiti possono intervenire a piacere su questo che per me è il gioco più bello dell'estate, cioè vedere come gli altri paesi hanno scelto di incentivare. Come? Perché? Perché ogni tipo di incentivo parla di una cultura. Allora, potete alzare la mano e intervenire Ghisleri, Pregliasco e Arampini, io ve li enuncio. Allora, a New York un biglietto gratuito per una partita di baseball. In Virginia buoni di risparmio di 100 dollari per la fascia 16-35 anni. Buoni di risparmio. Quindi a New York il baseball, in Virginia il risparmio. Nel New Jersey shot and beer ti danno un boccale di birra insieme al vaccino. E a Washington una canna di marijuana, joints for jabs. Questo per restare negli Stati Uniti. Ma nel resto del mondo, dottor Pregliasco, dottoresta Ghisleri, potete mettere per favore la mia preferita di sempre, che sono le forcine d'oro? A un certo punto... O la mucca in Thailandia. Ah, no, la mucca in Thailandia. A me piace la mucca in Thailandia. La mucca in Thailandia. In Romania le polpette speziate, a Mosca le auto. In Grecia 150 euro, ma solo ai giovani. A Pechino due scatole di uova. Però solo agli over 60. Però solo agli over 60. Su questo vorrei consultare senz'altro Rampini e tornare... E poi, ecco, le forcine d'oro per le forcine d'oro. Io scelgo l'India. Forcine d'oro per le donne. Tel Aviv, un concerto gratis all'aperto, Hong Kong. Lingotti d'oro e un appartamento. Io sono per il modello Hong Kong. Andiamo... Adesso... Detto così, proprio. Li commentiamo tutti, però posso tornare al precedente a Pechino e chiedere intanto a Rampini da cosa dobbiamo fermare Pechino o perché dobbiamo fermare Pechino? Cioè un moto al luogo o un moto dal luogo? Riprendendo il titolo del suo libro. E in che senso le uova sono così pregiate? Cioè perché se mi vaccino mi danno delle uova? Ma dunque, fermare Pechino è un tema enorme che riguarda il nostro futuro nel prossimo secolo. Cioè se pensiamo che l'Occidente abbia ancora dei valori da difendere debba tentare di arginare un espansionismo cinese sempre più dichiarato, sempre più esplicito. Questo è il tema del libro che uscirà a settembre, ma si può già cominciare a prenotare adesso. L'offerta delle uova in realtà tradisce ancora un po' di nostalgia per una Cina con delle aree di povertà, delle zone rurali dove l'alimentazione non è a base di bistecche o di carne di maiale o di pollo come a Pechino. Non credo che a Pechino smuoveranno molto. La Cina in realtà ha un problema grosso con i vaccini. I suoi vaccini non stanno funzionando bene come i nostri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce ai vaccini cinesi un'efficacia grossomodo del 50%. Allora cosa sta facendo la Cina? Al di là dell'incentivo delle uova, che è simpatico e che per gli over 60 magari provoca qualche problema di colesterolo, ha soprattutto riesumato lo strumento che funzionò bene nel 2020, cioè delle forme di lockdown, i numeri sono ancora piccoli per i nuovi contagi cinesi, però le misure di restrizione alla mobilità delle persone da Pechino a Nanchino sono di nuovo abbastanza severe e a Wuhan, la città martire, diciamo così, ground zero del focolaio originario dell'inflazione, vogliono niente meno che sottoporre a test tampone tutti gli 11 milioni di abitanti. Cioè si sta rimettendo in movimento quella macchina logistica organizzativa del Partito Comunista cinese che un anno fa funzionò bene. Pregliasco, allora su questo diventa molto interessante, così leghiamo quello che diceva poco fa Rampini. Puoi chiedere a Pregliasco qual è il suo incentivo preferito? Ah aspetta sì, qual è il suo incentivo preferito tra questi, caro, Hong Kong mi auguro, anche lei appartamento. Ma non è male, non è male. O si accontenta delle uova, non lo so. Però è una lotteria, quindi non c'è certezza, non c'è certezza. Magari una birra può essere almeno concreto. No, così poco. Non penso le forcine d'oro per Pregliasco. Una birra, un boccale di birra. Allora, se il conto è una birra, è proprio sopra gli ascoli. E la dottoressa Ghisleri qual è il suo incentivo preferito? Non la sentiamo. Non la sentiamo. Adesso la ripristiniamo, ma il labiale mi dice forcine d'oro, se non... No. No. Un concerto, il concerto a Tel Aviv. Il concerto a Tel Aviv, veramente. Va bene, non vorrei spezzare questo momento. Scusami, perché si capisce tutto del paese donante e della persona che riceve il dono. Hai sottovalutato questo testo? No, io sono materiale, era a casa Hong Kong, i goti d'oro. L'ho detto chiaramente. Che la dottoressa Ghisleri scegliesse un concerto, tu l'avresti mai detto? Sì, una persona acculturata, gentile. Ma non è questo, è un'altra cosa. Però volevo fare un passo in avanti, cioè capire, dal professore Pregliasco, una cosa che oggettivamente ci preoccupa molto. Cioè, se guardiamo Wuhan, che ritorna, diceva Rampini, allo stato ex ante, cioè 11 milioni di residenti a cui si fa il tampone, si chiude, il caso di Israele, paese tra i più vaccinati, che minaccia di tornare in lockdown, questo non per creare allarmismo il 7 di agosto e sarà un splendido sabato, uno splendido weekend, ma ci dice qualcosa di quello che potrebbe accadere in futuro anche qui da noi in Europa o no? Cioè, questo ce lo può dire? Possiamo anticipare delle cose che... Assolutamente. Cioè? A mio avviso sì, perché come dicevo all'inizio, purtroppo noi abbiamo ogni contatto, più lo aumentiamo e più rendiamo, come accennavo prima, facile l'infezione. Le varianti si inseriscono in questo. La variante Delta ci inquieta, molto più contagiosa. E quindi davvero io temo che noi, peraltro come Italia, siamo anche un po' più indietro rispetto agli altri paesi europei, ma io temo che davvero dovremo convivere con questo virus perché ci rimarrà sempre una sacca di soggetti suscettibili. Il modello è il riferimento anche alla quantità di soggetti vaccinati, cioè all'immunità di gregge, 70, ora con questa variante Delta vicino al 90%, è un modello statico legato appunto al fatto che tutte le persone possano essere, diciamo così, coperte dalla vaccinazione, ma sappiamo che la vaccinazione in qualche modo decade nel tempo, quindi il meccanismo è di continuità, di presenza di un virus che in qualche modo ci terrà compagnia, appunto come accennavo prima, con onde successive, fino a un certo punto dove non avremo la dichiarazione di fine. della pandemia in senso proprio formale, ma una convivenza più civile e un'accettazione purtroppo anche di quelli che saranno un po' di casi che continueranno nel tempo. E forse dobbiamo anche, David, smettere di chiederci quale sia la coerenza, come facciamo un esercizio, diciamo una palestra quotidiana, la coerenza fra appunto il fatto che gli alberghi non chiedono il Green Pass, mentre invece i musei sì lo chiedono, a scuola serve, ma invece sul luogo di lavoro non serve, quello che ti controlla il Green Pass potrebbe non averlo, insomma il terreno delle contraddizioni è un terreno minato, ma se, come ci dicono i nostri ospiti, Ghisleri, Rampini, Pregliasco, stasera si tratta di dare delle spinte gentili, sai che per esempio ci diceva Danilo Lupo che al Museo Cappella di San Severo di Napoli il direttore per protesta ha deciso di lasciare l'incarico e quando Evelina Cristillen, la direttrice del Museo Egizio di Milano, qui da noi ha annunciato che avrebbe preteso il Green Pass, il sito internet del museo è stato riempito di contumeli e di improperi, quindi forse anche dare un po' meno ascolto a quello che accade fuori e andare dritti per la propria strada. Ma infatti a questo proposito con la nostra Laura Cappon andiamo a vedere in giro per il mondo che cosa sta avvenendo, quando il vaccino non basta per girare il mondo. Sono Bruna Corradetti, una scienziata italiana, vivo e lavoro qui a Houston, nel Texas Medical Center che vedete dietro di me. Sono bloccata qui negli Stati Uniti da ottobre del 2020. Oggi mi batto con un gruppo che abbiamo fondato, con dei colleghi e amici, che si chiama Bring Us Home, perché vogliamo dare voce a una situazione che sta riguardando tantissimi italiani, in realtà circa 300.000 europei. Bring Us Home racconta sui social un'emergenza dentro l'emergenza, perché negli USA il divieto di viaggio decretato da Trump in piena pandemia dai paesi dell'area Schengen e dalla Gran Bretagna, è ancora in vigore. Per evitare il divieto si può chiedere un'esenzione per ragioni di interesse nazionale, si chiama Nie, ma le procedure per ottenerla sono una lotteria. Dipende totalmente dal funzionario consolare. Io, giornalista, non l'ho preso, però so che una ragazza che faceva la ballerina di burlesque, lei l'ha preso senza problemi. Angelica vive a New York, ma è rimasta bloccata in Italia per quattro mesi. Ha fatto causa per avere un appuntamento al consolato americano in tempi ragionevoli. Ha vinto, ma non ha comunque ottenuto il Nie, quindi ha scelto di passare 14 giorni in un paese non colpito dal travel ban. Decido di andare ad Aruba, dove, peraltro, anche se in teoria si chiama quarantena in un terzo paese, puoi fare quello che vuoi. È più probabile che tutti becchi il Covid in una situazione del genere che a rientrare direttamente negli Stati Uniti con un tampone negativo o con un certificato di vaccinazione. Intanto qualcosa si sta muovendo. L'amministrazione Biden sta cercando di rimuovere il divieto e di aprire le frontiere a tutte le persone vaccinate. Gli Stati Uniti non consentono agli europei di rientrare sul suolo americano nemmeno per motivi lavorativi. Perché noi dovremmo consentire agli americani di godersi le vacanze? Io comprendo a Caprio o a Venezia. È una storia che avevamo raccontato qualche tempo fa nella mia rubrica. Arrivano tantissime lettere di persone che stanno in America e non possono rientrare. Federico Rampini, la domanda è legittima. Perché noi dovremmo, con questa tranquillità, e anche volentieri, perché il turismo è il motore dell'economia, essere entusiasti dell'arrivo degli americani e poi queste persone non possono rientrare a lavorare in America. Dunque, confermo ovviamente la situazione esattamente come l'avete rappresentata voi. C'è una totale mancanza di reciprocità. Mentre l'Unione Europea già un paio di mesi fa cominciò ad aprire le frontiere ai turisti americani, l'America si guarda bene dal fare attrettanto. Avere dei visti, per un europeo, avere dei visti per rientrare negli Stati Uniti è molto complicato, anche se ci sono serie ragioni di lavoro. E tu come fai? Io rappresento una minuscola microscopica eccezione perché... No, io ho due cittadinanze e due passaporti. Quindi entro in Europa come cittadino dell'Unione Europea, rientro negli Stati Uniti come cittadino americano. Ma ovviamente si tratta dello 0,0% che possono trovarsi in questa situazione. La spiegazione, secondo me, è abbastanza logica. Cioè, in Europa hanno prevalso le ragioni di un'industria turistica che giustamente in Italia, in Grecia, in Spagna, Portogallo, Francia non voleva privarsi per un secondo anno consecutivo dell'apporto del turismo americano che è una fonte di guadagno molto importante. L'America, secondo me, finora ha fatto un calcolo diverso. Cioè, prudente nel tenere chiuse le sue frontiere ai turisti europei in compenso ha goduto del fatto che moltissimi americani quest'anno fanno le vacanze a casa loro ed è un turismo ricco, molto ricco che fa il tutto esaurito negli alberghi della Florida, di Las Vegas e della California. Quindi a loro non è andata così male questa scelta autarchica. Peraltro che è un po' quello che ha fatto il Giappone. Ricordiamoci che il Giappone ha dei numeri di contagi e soprattutto di decessi che sono microscopici. Però, siccome è molto indietro nelle vaccinazioni, ha adottato delle restrizioni di ingresso che sono durissime, perfino in occasione di un evento come le Olimpiadi. Quindi ogni paese fa questo genere di calcoli sul guadagno e la perdita nella gestione delle frontiere. In ogni caso, anch'io spero che gli Stati Uniti riaprano ai vaccinati, almeno agli europei vaccinati. Almeno a quelli che lavorano, almeno a quelli che lavorano lì. 60 secondi di mini spot e poi ritorniamo anche con la dottoressa Ghisleri per fare commentare le parole di Draghi di giovedì, che vi abbiamo raccontato in diretta. Draghi ha detto, penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che ora si possa andare in vacanza contenti. Vediamo. 60 secondi. Dottoressa Ghisleri, il Presidente del Consiglio nel salutare i giornalisti e gli italiani ha detto prendiamoci queste due settimane di vacanze in serenità. Allora la domanda è questa. Gli italiani fanno mediamente due settimane di vacanze? Cioè ci stiamo tutti prendendo due settimane di vacanze? A parte David, Parenzo e Dio, ma questo non rileva, naturalmente non ha nessuna importanza. Diciamo due settimane è la misura aurea delle vacanze degli italiani e davvero si possono fare in serenità? C'è serenità, dottoressa Ghisleri? Torniamo di nuovo al naggio, alla spinta gentile. Intanto il metro di misura sì. Diciamo che i fortunati che possono fare vacanze fanno 15 giorni nell'arco tra giugno e settembre, la fine di settembre. Il tema è sempre un incoraggiamento per poter andare meglio e per far instillare quella fiducia di cui ha richiamato anche il tema economico. Quindi lui ha la necessità di creare un paese con italiani fiduciosi, non solo in lui, ma anche nell'opera del governo. Sono fiduciosi in lui? Cresce la fiducia dei Draghi? Diciamo che è rimasta stabile, è un pochino aperso, con l'introduzione del Green Pass si è abbassato un pochino, ma parliamo sempre intorno al 54-55%. Prima era intorno vicino al 60%. E Pregliasco parte per le vacanze? Dottor Pregliasco, lei parte 15 giorni per le vacanze? Ma sì, in effetti sono a Sarentino, un luogo magnifico del Trentino Alto Adige, però ritornerò a Milano, a Roma, quindi in realtà spezzetto molto. Quindi vacanze in Italia, così come raccomandate. Vacanze in Italia. L'unico che viaggia è Federico Rampini, al quale auguriamo un buon rientro negli Stati Uniti, teniamoci in contatto, ci mandi notizie da là, vediamo come vanno le cose. Grazie, buona domenica, noi ci vediamo lunedì. Torna pure dalla tua famiglia, Davide, per un giorno. A lunedì. A lunedì, ciao. Grazie.